Eccola, questo non deve succedere, il doppio tocco è perdita di tempo. Tu con un tocco come hai fatto le prime due, lo devi fare, non come la terza. Quel tocco in più fa ritornare l'avversario. Buon, buon, buon. 3, 4, 5, 1, via, 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 via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.